Pislink Taranto Pislink Taranto, Alessandro Marescotti, si riferiscono all'impianto di agglomerazione in cui si forma la diossina. Appaiono evidenti delle emissioni diffuse e fuggitive, spiega. Quelle girate di notte, aggiunge Marescotti, riguardano le emissioni complessive dello stabilimento che risultano non coinvogliate dai camini. Tali immagini, aggiunge l'ambientalista Tarantino, sono indicative di un'esposizione di un numero imprecisato di lavoratori a fumi e vapori che dovrebbero essere convogliati o captati in modo efficace in base alle direttive europee sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, recepite nella legge 626 del 1994 e poi trasfuse nel testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza. Le immagini girate, secondo Marescotti, attestano il non rispetto delle prescrizioni dell'AIA, in particolare le prescrizioni relative al confinamento delle polveri che attualmente non avviene per le aree di gestione e movimentazione dei materiali polverulenti, la cui pericolosità è nota. Tale confinamento, conclude il presidente di Peace Link, doveva servire per evitare le emissioni diffuse e fuggitive, vera criticità dello stabilimento e vera questione centrale spinosa emersa nella perizia dei tecnici della procura.